La gemma turistica della costa barese. È così che la rivista Forbes definisce la cittadina di Polignano a mare, che dopo il recente premio ricevuto da Booking, incassa un nuovo riconoscimento internazionale per l'eccellenza della sua proposta turistica. Traguardi di cui si è discusso anche in occasione della recente BTM, svoltasi in Fiera del Levante a Bari, e che è stata occasione per fare il punto su un settore ormai sempre più trainante per l'economia del territorio. E nella scelta tra turismo internazionale, quello nazionale e quello interno, che privilegia la scoperta dei luoghi più vicini, anche se di nicchia, ecco come si posiziona la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone. È una turista interna alla ricerca di scoprire tante cose che ancora adesso non conosce e di meravigliarsi di fronte alla bellezza di tutto questo. Per esempio non mi stanco di andare nei piccoli comuni del Salento, così come in quelli dei Monti Dauni, dove abbiamo realizzato biblioteche di comunità insieme ai sindaci e alle associazioni, che sono fantastiche, 130 biblioteche sparse in tutta la Puglia, hanno costituito la possibilità di cambiare piccoli comuni e farli diventare centri di attrazione. Cultura al centro dunque con un occhio particolare ai grandi eventi, espressione proprio di questo comparto. Le tante attività con i festival, la musica, il teatro, il cinema, sono per la Puglia un vero e proprio nutrimento. Nutrimento anche in termini di lavoro, grazie al quale il settore del turismo si è rialzato con energia dopo il gravissimo stop causato dalla pandemia. Non solo eventi però, Loredana Capone ricorda che tantissimi altri sono i punti di forza e di attrattività interni alla regione. Dalla cultura al mare, dall'enogastronomia con la cucina tipica pugliese, i vini straordinari, fino ad arrivare al ciclismo, fino ad arrivare ai sentieri, ai cammini, tutta da scoprire davvero.